questa è mia basta l'ho detto ora che siamo in scott streaming accettato scott streaming pizza accettato accettato sì credo è un partito per ultimo andiamo 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 perché tra piazza e piazza scusi mi stia dietro mi stia dietro bravo ciao piz ti vedo per terra perché c'è il cuo per terra piz ma perché non mi usa più le patatine che mi facciamo venire una gran fame ragione dopo le metto ma da martina in silenzio di prepotenza e non mi sa bene che quella l'ho persa credo di sì 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 ma tale quindi credo di sì però non credo ci sia una data precisa 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 no i pezzi dell'astronave abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere eppure ce n'era di gente raga parecchia anche sul nuovo gta si potrà organizzare qualcosa gta 6 secondo me fa il voto no no spaccherà tutto spaccherà tutto sì no distrugge tutto il gta 6 dopo dopo 9 anni quant'è 10 anni sì 7 oh cristo dio dove sono vabbè tua m***a va bene ok cioè ero prima chiuder deve fare quel salto non mi interessa no 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 non mi qualifico non sto scherzando no no scudere scudere per favore non mi faccia sono sono ultima sono dietro ci sta pure mia nonna davanti devo fare sì 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 conviene c'è un salto a destra massima è impossibile no 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 l'hai preso largo l'hai preso largo andiamo dove martina ero ultima e sono qui no ho sentito schiacciare con prepotenza forza forza portiamoci a casa già non ci è stato di aiuto pizza questa cosa va malissimo va è uno se ne va perfetto via un altro no 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 sono loro che cadono come di p***o di che paese ergizio sto parlando questo ma questo qui qual è il trucco il trucco è cadere nei buchi cadere nei buchi l'unica seguire un attimo l'inclinazione perché sennò vai giù di inclinazione e se ti senti confident comincia a grabare la gente quando sono vicino ai buchi cominciamo ad andare veloci cominciamo ad andare veloci veramente grabo martina mi scusi ma come si permette a toccarmi mi scusi mi scusi le ricordo che è la carta identità no no ho undici anni mi scusi ok ed easy win vado in porta sì sì penso che venga c'è una lattina che non ti importa con me buono però siamo tanti quindi penso che un portiere in più serva ho due portieri eh no la lattina lascia perdere forse va mi sto avvicinando alla porta è gol è gol no ma tu hai pelata ne grab uno ne grab uno ne grab uno troppa gente troppa gente sì no grabato grabato sono dentro vai 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 ok ok quindi il grab ha workato rifacciamolo 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 ti arrivano due pallette eh vai oddio potrebbe fare gol potrebbe fare gol potrebbe fare gol blocco il pennuto sì come ne difendere xd come ne difendere no bravi 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 molto bene molto bravi molto bravi lo blocco li blocco li blocco li blocco li blocco li blocco mamma mia meno male meno male meno male questo grande pitone let's go ma mi scusi no mi scusi marty lei il pitone il pitone il pitone ho capito che io ho i loghi del serpente però eh ho capito mi si chiama un po' fine con i suoi loghi eh beh sì andiamo andiamo ma qua secondo me la vince xuder c'ha della è primo al primo posto potrei farcela xuder ma se la grabbo si incazza con me sì sì tantissimo marty no comunque siamo buono buono qua non la grabbo perché voglio vincere buono eh qua niente qua malissimo niente due palle in faccia e perdere la partita così no non è detto ancora non è detto assolutamente no siamo sono io sono seconda sono prima ah martina ha già vinto no 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 la pizza non è detto perché se c'è il timing che la corona sale è io arrivo ah è vero non è martina potrebbe vincere no no vino io vino io ma la tira di me va a f***e la fuoco è mia è mia brava let's go finalmente guarda dopo tanti parla parla questa è la prima win che vedo oh e si va per la trentaduesima ma io la stavo casando la stavo casando ma te te l also comp Talia lì a conta la sua come le donne non l'ho capito io e poi li stavo per dire ma te te capisci se te parla di malese o te capisci no Forse sì Quello che ho detto ora sì Beh, questa era facile Ho chiesto se capiva se parlava in milanese Eh sì, sì No, 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 anzi No, 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 tua madre Che quando arrivano gli spectators Non ce la posso fare Sto zitto quando vedo che ci sono cose Ciao Yurma, grazie mille Uè, fanti, pazzo criminal Che cavolo ha fatto prima Andiamo Let's go, let's go, let's go Andiamo, andiamo, andiamo Siete già qualificati? Sì, sì, io sono dentro Grazie Uboche, grazie per le patatine La vinco Alla faccia di pizza la vinco, andiamo Alla sti sacchi che cadono Madonna Il penuto è caduto, God Ok, buono Ma non ho mai capito come si spinge però Devi sempre andare nella parte viola Lo spinge al contrario Min***o per un pelino Eeeh Madonna, che casino Mi buttano giù? Eh sì Sta diventando assurdo questo livello Quasi per dire che sta diventando uno dei futtosti di livelli No Oddio, c'è il braccio tutto strappato Sì, sì, quella di sinistra La texture, credo Il braccio strappato Andiamo, andiamo, andiamo Sono qualificato Benissimo, benissimo Ah, ce la fa Taxiuder? Ma mi scusi, ma mi scusi Ma scusi, perché lei sta continuando a sostenere che io non ce la faccio? Perché lei ce la farà, adesso farà la decima vittoria Un spinone? Cos'è un pastore? È un pastore con i baffi di uno spinone, il pelo Cioè, una c'ha 18 anni, l'altra ne ha 13 Ma come è 18? Eh sì, è grandissima È un cavallo praticamente Minchissata, sta benissimo È vero? Eh sì Non sente un cavallo, ma sta benissimo Ma come non sente un cavallo? No, non sente nulla Beh, normale, è grande Ma questo è difficilissimo, dai Il fatto è che è anche un po' rng È un botter Non è che ci siamo abituati, però Andiamo Io Fatto Ok, let's go Ok Bello questo Una fame bestia, c'è Mangerei un bisonte intero Vivo Ma, vivo Vediamolo, vediamolo L'uomo infiaccolato Ci sono, ci sono Non abbia paura, non abbia paura, succede È stato tranquillo, sono È dritta, è dritta È dritta, è dritta, è dritta Sì, è dritta, è dritta Comunque ha ragione, non è sempre l'anno Ci sono degli schemi predefiniti Certo, sì, sì Vabbè, ora è qua a sinistra Perfetto Ora vediamo, aspetti Avanti Credo sia avanti, ma io col c***o che provo Oh, oh La vostra m***a, ve lo giuro No, 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 no Ok Dovrebbe essere dritto È dritto, dritto Gli ultimi tre sono sempre tutti dritti No, la portano a casa di là, occhio Siudere Mamma mia, siudere Troppo brainati, troppo brainati Xudere L'Xudere è un fenomeno, un dragone Non, non, le cuffie non funzionano Mannaggia le Sennheiser C***o No, allora, qui è fattibile farla vincere Ma deve essere primo insieme a me Se no, non ha senso Sì, no, se no la vinca a lei Corri, 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 corri No, le palla te l'ha prendita in faccia Super fuck Super fuck, c***o C***o, c***o C***o, c***o, c***o La vinta Martino La vinta Martino Questa arriva sempre all'obiettivo Gigi Gigi in the shot 34esima win Mi sa che dobbia rimuovere un elemento Perché ti ruvina le corone Andiamo, 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 andiamo Si continua, si continua, si continua È veramente divertente Io vi invito ad andare a guardarlo Dai Marti, let's go Ok Andiamo Oh, Franci No, no, mi qualifico Ma come non mi qualifico? No, mi qualifico, mi qualifico Ok, buono Oddio 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 Quarantesimo Sì, perché Era un attimo De concentrazio Andava già aggiornato Sì, un quantum creator Che gli streamer giocano un gioco Il gioco esplode Che figo Ho fatto il doppio salto Chi sta? Hai visto che ha funzionato? Eh, ha funzionato di brutto Quello ti permette di non farti andare addosso tutti Esattamente Nice È pizza, bella Mi faccio dare la win Mi mangio qualcosa Ma perché non sta parlando in TS È alle 14 ma sono le 3 No, ma sono le Ma scusi, quali sono adesso? Eh Le 3 meno un quarto What the fuck Perché ho visto che erano le 2 meno un quarto? Sono le 14 e 43 Mi ero mutato Quanto TS Perché Se no mangio E mi sentite sentire il rumore Capito? Ah Che cazzo ne frega No, vabbè Mi mangio mutato Se no sento anche Ego Così mi vedo la partita Va bene, va bene, va bene Piz A tra poco A tra poco Questi rossi mi fanno un po' paura Non capisco cosa vogliono fare Ah ma siamo messi benissimo No, no Mamma mia Andiamo Vai, vai, vai Un'ottima qualifica ragazzi Let's go Siamo ancora tanti però Cazzo Ok Il tiptoe non esce da 65 ore E quanto tempo è che non esce un survival? Io voglio il tiptoe Seconda fila Secondo Good luck Sì, ma la vedo molto Molto dura La ritengo quasi impossibile Passare in così tanti Putta Che palla in faccia Oppure c'è chi non M***a Le patatine a sinistra vincono Ah, sono caduta Oddio, vinco io Vinco io Non ci credo Vinco io, vinco io, vinco io In diciannove In diciannove Dio santissimo No fucking way Secondo come sempre Allora Non ci credo Per Allora Grazie a tutti.